Seconda gara del Moto Mondiale 2020, seconda gara a Erez della Frontera, sto giro non per il Gran Premio di Spagna ma per un inedito Gran Premio di Andalusia e come domenica scorsa Fabio Quartaro concede il bis battendo ancora una volta le Yamaha ufficiali, ancora una volta secondo Maveri Guignales cambia il terzo pilota sul podio, non è Andrea Dovizioso ma è Valentino Rossi che a 41 anni diventa il più anziano pilota del Moto Mondiale a salire sul podio una gara che è stata interessante per le posizioni da podio, per la che riguarda la MotoGP, per la vittoria non c'è mai stata storia Quartaro ha preso fin dal primo istante, fin dalla prima curva, ha preso sotto la compagnia e ha vinto con 8 secondi quasi di vantaggio sulle Yamaha in lotta che hanno dimostrato di essere una moto valida seppur in una pista favorevole ci sarà da parlare per quanto riguarda le lotte per il podio, visto che questa gara di Andalusia è stata una competizione a eliminazione ci sarà tanto da parlare anche per quanto riguarda la Moto2, visto il grande risultato degli italiani e poi completeremo il Racing Podcast con Moto3 e MotoE parliamo però della MotoGP perché ovviamente il polverone mediatico è stato quello di Marc Marquez addirittura dopo l'operazione il pilota spagnolo ha provato addirittura a rientrare in pista, secondo me facendo una scelta folle e infatti si è visto che questa scelta non ha pagato Marquez in qualificazione ha fatto schifo e ha deciso giustamente di rinunciare al Gran Premio già solo di aver pensato di poter correre con un braccio rotto e un omaro fatturato in 3 punti è una scelta pazza e sconsiderata certo un pilota ha sempre fama di vincere, voglia di vincere, però non è certo questo il caso con un braccio rotto come vedremo però nella classifica del campionato, con questa vittoria di Qua Fabio Quartarolo che andiamo qui a inquadrare evidentemente il mondiale sembra, non dico già indirizzato, però possiamo già capire quali sono i valori in campo con una Yamaha e una Ducati che sono di fatto le due moto migliori in pista anche se oggi di fatto la Ducati si è auto eliminata Honda senza Marquez ha evidenziato tutti i limiti del caso e ha fatto veramente pietà e ha raccolto quello che poteva raccogliere l'unico decente è Takahaki Nakagami, vero c'è anche Alex Marquez che è finito ottavo però come vedremo è stata una gara eliminazione ciò non toglie che il francese qui inquadrato Fabio Quartarolo ha dimostrato di essere un mostro in questa pista ha concretizzato un passo della madonna, girava costantemente sul 38, mezzo secondo più veloce e tutti gli altri contendere e di fatto la gara si è conclusa già dai primissimi giri per la vittoria era una gara che di fatto non ha mai contato è stata bella per il podio perché Yamaha e Ducati se la sono lottata molto meglio in questo caso la Yamaha clienti prima che le due moto finissero fuori rispetto a una Ducati ufficiale che ovviamente ha fatto molta più fatica rispetto allo scorso Gran Premio anche con il mio Andrea Dovizioso insomma Dovizioso ne esce con le ossa un pochino rotte da questa seconda gara fa comunque sesto sfruttando le cadute degli altri Quartarolo sembra veramente l'uomo da battere in contumacia di Marquez insomma tanti spunti in questo moto mondiale che dopo due gare ha una classifica di questo tipo il francese Fabio Quartarolo vince la seconda gara consecutiva e va a 50 punti secondo è ovviamente Maverick Vignales con due secondi posti terzo in classifica generale è Andrea Dovizioso con 26 punti con questo sesto posto che di fatto si completa una grande rimonta del pilota forlivese ma diciamo non rende giustizia alle altre moto che potevano secondo me meritare di più in particolare le Ducati clienti del team Pramac perché Francesco Bagnaia in particolare aveva dimostrato di avere un passo incredibile di lottare, di meritarsi le posizioni che contavano era addirittura secondo prima che un problema tecnico lo facesse fuori un problema al motore in particolare il pilota piemontese non riesce a replicare il posto in top 10 della gara scorsa stesso discorso per Jack Miller che era un altro pilota della Ducati a podio il futuro pilota della Ducati ufficiale dell'anno prossimo in questo caso si è steso e non ha fatto diciamo anche qui un secondo gran premio di Spagna concreto rispetto all'ottimo quarto posto della prima gara male Dovizioso ma Dovizioso come abbiamo detto paga una qualificazione tremenda con un quattordicesimo posto addirittura fuori dalla Q2 ha rimontato otto posizioni ma figlio delle tante calute davanti perché ovviamente davanti si era creato il gruppo con le Yamaha ufficiali la Ducati Pramac di Bagnaia la Ducati Pramac di Miller anche la Yamaha SRT di Morbidelli Morbidelli è un altro che ha fatto diciamo fatica nel senso che ha dovuto abbandonare la competizione anche qui per un altro problema tecnico ed è un peccato perché erano tutti i piloti che potevano ambire tranquillamente alle prime 5 posizioni era una lotta che appunto si è concretizzata davanti con Valentino Rossi addirittura secondo per larghi tanti della gara davanti a Maverick Vinales che ha la meglio sul pilota di Tavullia al penultimo giro e completa questa tripletta Yamaha capeggiata da Fabio Quartarro che dunque si aggiudica la seconda gara in carriera in moto mondiale e dunque per l'uomo inquadrato suona la marsigliese l'inno nazionale francese ed è ovviamente lui il mio rider del giorno visto che con moto clienti che tecnicamente dovrebbe essere inferiore alle ufficiali dare mezzo seconda di passo in questa pista che Quartarro comunque conosce bene visto che c'è corso nel Chev c'è corso in moto 3 c'è corso in moto 2 insomma è un qualcosa di straordinario il francese in conto macchia di Marquez secondo me al momento è l'uomo da battere va detto anche che la pista di Heres della frontera era molto più favorevole alla Yamaha rispetto alla seconda moto in pista che è la Ducati Ducati che avrà tre gran premi importantissimi dove dovrà sicuramente raccogliere di più che sono Bernou e le due gare austriache Austria e Stiria al Red Bull Ring delusione del giorno è facile sparare sulla Honda ma di quello ne parleremo dopo la do purtroppo ad Andrea Dovizioso perché sì io sono un grande tifoso della Ducati in particolar modo di Dovizioso ma un pilota che dovrebbe giocarsi il mondiale in conto macchia di Marquez che non si sa quando capiterà un infortunio del genere per le condizioni degli altri piloti che con Marquez a pieno regime farebbero fatica a batterlo fare terzo e sesto sì, vero ti mette terzo nel mondiale vero ci sono delle piste favorevoli in futuro però potrebbe far di più e la seconda gara è forse un esempio di quanto la Ducati ufficiale si è in difficoltà anche perché l'altro pilota ufficiale della Ducati Danilo Petrucci ha fatto una gara ovviamente in colore ed è dovuto anche lui andare indietro non solo Petrucci si è dovuto ritirare parentesi sulla Honda in conto macchia di Mark Marquez la Honda ha evidenziato i limiti che ha con gli altri piloti perché l'unico decente è quest'uomo Takaki Nakagami che finisce quarto tutti gli altri veramente gare anonime perché Alex Marquez ancora una volta ha dimostrato di essere molto acerbo per questa moto ufficiale Carl Claccio è rientrato ma correva a mezzo servizio ma è mancata anche la Suzuki ma Rins correva a mezzo servizio ha fatto una gara interessante Hoan Mir però anche la scuderia giapponese GSX è mancata insomma è una gara che lascia molto contenta Yamaha dopo queste prime due prove Ducati è col bicchiere più mezzo vuoto che mezzo pieno però si può riscattare e si deve riscattare e io un po' lo pretendo da tifuso della Ducati nelle prossime tre competizioni ci sarà da battere ancora una volta dunque quest'uomo Fabio Guardaro che dunque per la seconda volta bissa un successo di un team privato in questo caso vi ricordo che il francese corre con gli AYAMA SRT che dovrebbe essere il futuro team di Valentino Rossi per l'anno prossimo gli altri risultati dunque vi dicevamo il podio con Quartaro Vigna Quarto Takahaki Nakagami Quinto Hoan Mir con la Suzuki Sesto Andrea Dovizioso abbiamo già detto Settimo un ottimo pole Spargaro che con la KTM sta veramente crescendo e probabilmente dimostrando che merita sicuramente lui il posto nella onda delle Marquez dell'anno prossimo onda di Alex Marquez ovviamente ottavo appunto Alex Marquez che deve ringraziare la mirida dei caduti davanti a lui per essere finito ottavo non opposto per Johan Zarco che resiste con una moto clienti della Ducati inferiore il team Avintia sappiamo che è uno dei team più scarsi di questa MotoGP top 10 per il francese decimo posto per Alex Rins che stoicamente racimola i punti che gli permettono di non finire a zero le prime due gare prossimo appuntamento per la MotoGP e per tutte le altre cazzerie che adesso andremo a parlare a Brno parliamo della Moto2 Moto3 e MotoE con un particolare occhio verso la Moto2 perché non solo vincono i miei piloti preferiti in Moto2 uno dei miei piloti preferiti anche di sempre del Moto Mondiale ovvero il best di Rimini Enea Basterini ha la prima vittoria in carriera nella classe intermedia ma il podio è completato da tre italiani in particolar modo parliamo degli italiani dello Sky Racing Team VR46 con seconda posizione per Luca Marini che fa 45 punti in due gare ed è terzo nel Mondiale e Marco Bezzecchi che ha fatto una gran pole position in qualificazione e arriva comunque a coronare una gara molto interessante con il terzo posto il Mondiale Moto2 rimane veramente molto aperto considerato che ancora ci sono pochi piloti in pochissimi punti il leader è Tetsuta Nagashima che è pilota della Red Bull KTM Ayo che ha fatto una gara anonima comunque a ridosso della top 10 undicesimo il pilota giapponese paga una qualificazione orrenda secondo è proprio Enea Basterini che con 48 punti va a meno due lunghezze dal pilota giapponese e terzo appunto è Luca Marini che con i 45 punti delle due gare di Spagna va anche lui a meno 5 un grato Moto2 è veramente molto interessante e ci sarà da capire se gli italiani possono essere più competitivi io ovviamente ho un mio personale favorito da tifoso spero che Enea Basterini possa continuare così è un pilota che a me è sempre piaciuto ha vinto secondo me molto meno rispetto a quanto merinava il talento di Rimini il bestia è secondo nel mondiale potrebbe essere l'anno buono per un campionato del mondo Moto2 vedremo anche se secondo me il team KTM Ayo quindi Nagashima e Martin sono ancora secondo me leggermente superiore anche se sembra una lotta più tra Sky Racing Team e Red Bull KTM Ayo anche qui c'è una delusione del giorno ed è Augusto Fernandez pilota che poteva essere interessantemente coinvolto nel mondiale Moto2 ha fatto una gara anonima a ridosso dei punti o comunque nelle posizioni che non contano quindi i punti bassi della classifica ed era un pilota che insieme a Jorge Navarro altro pilota spagnolo che si è ritirato in questa gara di Moto2 poteva secondo me ambire a posizioni più importanti del campionato del mondo passiamo alla Moto3 Moto3 che è stata l'ennesima gara involata della carriera una Moto3 che ha visto differentemente dal solito un pilota solo al comando di fatto che è quello che ha vinto dalla pole position ovvero il giapponese Tatsuki Suzuki mentre quindi per gli italiani ha suonato giustamente fratello d'Italia per il giapponese suona il Kimigayo il nazionale giapponese dicevo gara diversa dal solito perché anziché il solito volatone di 1500 piloti qui addirittura per giocarsi le vetture ce ne erano soltanto in 6 o 7 di questi 6 o 7 la spunta il pilota del team C-58 squadra corse ovvero Tatsuki Suzuki podio completato da John McPhee lo scozzese che fa il secondo podio in tre gare il venerabile maestro come lo chiamiamo della categoria è sempre un osso duro quindi attenzione a lui terza posizione per Celestino Vietti pilota dello Sky Racing Team VR46 italiani che in Moto3 hanno fatto veramente veramente fatica l'unico pilota che era nelle posizioni di testa era Tony Arbolino prima di essere diciamo sostituito da Celestino Vietti Arbolino che non fa una bellissima gara soltanto decimo il pilota milanese gli altri italiani che vedete appunti sfruttano effettivamente le cadute degli altri come è successo in MotoGP il pilota del giorno comunque oltre a Tatsuki Suzuki che vince in Moto3 è il sudafricano Darren Bender che partiva venticinquesimo in qualificazione finisce quarto poteva forse aspirare al podio il fratello di Brad non è stato così vedremo cosa combinerà a Bernou il pilota sudafricano mondiale Moto3 che comunque vede un grande colpo di scena prima di passare alla Moto3 ovvero il ritiro di Albert Arenas che era il pilota da battere effettivamente prima di questa gara Albert Arenas ha vinto due delle prime tre gare si è ritirato per una caduta una chiusa di antierrore del pilota spagnolo lo ha estromesso dalla competizione dunque abbiamo un mondiale con Arenas primo a 50 punti Suzuki II a 44 John McPhee terzo a 40 e Ayogura a 36 Ayogura che è un'altra esclusione eccellente da questo mondiale il secondo pilota in classifica prima di questa gara rimane a 36 punti il migliore italiano rimane Celestino Vietti a 11 con un quinto e un terzo posto al sesto posto in classifica è un mondiale ancora abbastanza tirato ci sarà da divertirsi cos'è che i mondiali Moto3 sono sempre stati decisi in volata o quasi concludiamo il racing podcast odierno con la MotoE MotoE che ha bissato la gara della settimana scorsa il leader del mondiale è Dominic Gerter che vince anche la seconda tappa e si prende la leadership di questo campionato del mondo Dominic Gerter è un pilota molto esperto viene dalla Moto2 per lui suona il salmo svizzero e Gerter domina la gara sprint della MotoE erano soltanto 6 giri e lascia scannare gli altri per le posizioni da podio podio completato dallo spagnolo Jordi Torres anche lui con un passato in Moto2 e anche in Superbike terza posizione per Mattia Casadei pilota italiano del Sic 58 squadra corse che dunque fa due podi nelle quattro categorie è un mondiale molto tirato anche qui c'è un colpo di scena importantissimo ovvero il leader del campionato scorso e campione regnante di categoria Matteo Ferrari cade fa un errore in realtà alla dry sack in curva 5 stende l'altro contender importantissimo per il mondiale ovvero Eric Granado che in qualche modo si rialza e finisce tredicesimo a punti evidentemente questo è l'highlight della gara di Andalusia e in un campionato così corto fare uno 0 è cruciale e dunque per questo 0 Matteo Ferrari scende al sesto posto in campionato e Granado è soltanto terzo con un primo e un tredicesimo posto altri risultati per quanto riguarda gli italiani partiamo in realtà dal San Marinese il leggendario Alex De Angelis che fa a quarto una gara suntuosa riscattando il dicesimo posto della prima gara altri italiani a punti Nicola Ocane fa quinto posto con appunto la moto E di Casadei e Ferrari abbiamo già parlato note di colori importanti decimo posto per il pilota di Andorra Xavier Cardelus pilota che solo per la nazionalità mi sta oltre a modo simpatico e undicesima Maria Herrera che anche lì vengono sfruttate cadute importanti di altri piloti soprattutto anche due italiani Tommaso Marconi e Alessandro Zaccone che erano davanti a lei però undicesima posizione per Maria Herrera è tutt'altro che da buttare via fatemi sapere cosa ne pensate di questo racing podcast soprattutto la gara della MotoGP che vi ricordo va a Bourneau che tornerà tra due settimane con quattro all leader con due vittorie su delle gare Vignales secondo ed un vizioso terzo nel mondiale il saluto da parte di Vettiotor che ci vediamo a un prossimo video che sarà domani vi ricordo ore 19 parleremo dell'opening day di MLB quindi baseball americano e Grazie a tutti.